I finanzieri dei nuclei di Polizia Tributaria di Palermo Agrigento hanno sequestrato decine di rapporti finanziari, sette aziende, un villino e nove terreni, per un valore complessivo di oltre 1,8 milioni di euro nella disponibilità di Pasquale Antonio Cardella, 64 anni di Licata. Il sequestro di errore è stato disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Agrigento al termine di complessi accertamenti svolti dalle fiamme gialle che hanno permesso di individuare i beni dei quali Cardella aveva la disponibilità. Sono state sottratte imprese di costruzione, di trasporto merci su strada e dedicate alla frantumazione di pietre, aventi sede a Licata e nella provincia di Prato. Ricordiamo che l'uomo è stato ritenuto per anni il punto di riferimento di Cosa Nostra a Licata, arrestato nel dicembre 2012 nell'ambito dell'inchiesta Auster, è stato accusato di estorsione aggravata e intestazione fittizia di beni. Sebbene il processo sia ancora in fase di definizione, le indagini svolte dai finanzieri hanno posto in evidenza la pericolosità di Cardella, definito dalla Procura della Repubblica di Palermo come elemento di spiccata capacità delinquenziale nel contesto dell'associazione criminale denominata Cosa Nostra.